L'annuncio del quantitative easing da parte della BCE, che da marzo procederà ad acquisti di bond per massimi 60 miliardi di euro mensili, ha spinto l'euro sui massimi a 11 anni, in area 1,11 contro il dollaro. La divisa unica europea ha ripreso vigore nelle ultime sedute, complici le attese di interventi da parte della Swiss National Bank sul Forex, per calmerare l'ascesa del franco svizzero contro l'euro. L'agenzia di rating Standard & Poor's ha ridotto il merito di credito sul debito russo a BB+, ossia a livello junk. L'outlook è negativo, con la possibilità di nuovi downgrade in caso di ulteriore deterioramento dello scenario economico. Il rublo ha reagito ritornando nei presti dei minimi storici contro il dollaro e portando a circa meno 16% il saldo da inizio anno, dopo il tentativo di recupero nelle ultime settimane del 2014. Risalita sopravcuota 1,50 per il pound contro il dollaro, in scia alle parole di Christine Forbes. Il membro del Comitato di Politica Monetaria della Bank of England ha sottolineato come i tassi di interesse britannici potrebbero salire prima di quanto attualmente il mercato si aspetta, se l'inflazione rimbalzerà con forza dopo il recente calo. Tonfo ai minimi da quasi sei anni del dollaro canadese, dopo la decisione a sorpresa della Bank of Canada di abbassare i tassi dall'1% allo 0,75%. La decisione è stata motivata dagli effetti negativi sull'economia del paese nordamericano del tonfo dei prezzi del petrolio. Buongiorno e benvenuti a Forex Time. I primi due fondamentali appuntamenti di questo inizio 2015 sono ormai alle spalle ma continueranno a fare sentire i loro effetti anche nelle prossime settimane. La Banca Centrale Europea ha deciso il quantitative easing e ha contentato i mercati. In Grecia, Tsipras si è aggiudicato le elezioni e si è alla formazione di un governo sostenuto da una maggioranza inedita, Siriza di sinistra e i greci indipendenti di destra. Unico collante la richiesta di minore austerità e di taglio del debito pubblico. Difficilmente saranno accontentati dall'Unione Europea. Di questo braccio di ferro parleremo con gli strategist di IG, rappresentata oggi in studio ai massimi livelli da Alessandro Capuana, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno Alessandro. Più tardi parleremo di Swiss National Bank, dopo lo scherzetto di due settimane fa la Banca Nazionale Svizzera continua comunque ad agire sui mercati valutari. Vi ricordo prima di collegarci con la sala operativa di IG, l'indirizzo a cui potete scriverci via email a forextime at finanzonline.com, via twitter a at underscore forextime. Dovremmo ora essere in collegamento con Filippo Di Odovice da Milano. Buongiorno Filippo. Buongiorno a tutti. Dunque Filippo, ci siamo lasciati dietro le spalle due primi appuntamenti importanti. Stasera c'è un altro, la Federal Reserve. Comincia a chiarirsi quello che potrà essere lo scenario per il 2015, soprattutto per quanto riguarda l'euro dollaro che ha iniziato con un calo di oltre 8 punti percentuali, segnando lunedì un minimo a 1,1098. Ora ha recuperato e si è riportato sopra 1,13. Sulla valuta, su questo cambio, c'è la possibilità di cominciare a operare anche sui rimbalzi dell'Euro o riprenderà comunque inesorabile la discesa? Per quanto riguarda l'orizzonte di medio periodo, noi siamo convinti che il cambio euro dollaro continuerà a indebolirsi. Ma come tu hai detto giustamente, per quanto riguarda un orizzonte di breve periodo, ci sono opportunità di trading per delle reazioni del cambio euro dollaro. Oggi, come hai detto, ci sarà la riunione della Federal Reserve. La Federal Reserve sarà interessata comunque a indebolire un po' il biglietto verde, il dollaro. L'abbiamo visto proprio nella pubblicazione recente delle trimestrali delle imprese americane, come il forte apprezzamento del dollaro degli ultimi mesi ha impattato negativamente sui ricavi e profitti delle imprese del paese a stelle strisce. Quindi i membri del board molto probabilmente cercheranno di lasciare come messaggio quello che il rialzo dei tassi di interesse negli Stati Uniti non sarà così veloce come si poteva immaginare solamente qualche mese fa. Quindi si cercherà di posticipare questo rialzo del costo del denaro in modo proprio da allentare le pressioni rialziste sul dollaro. Questo potrebbe portare il cambio euro dollaro a evidenziare comunque una reazione. Abbiamo visto, come tu hai detto, un minimo a 1,1098, siamo risaliti anche sopra 1,14, siamo un po' stabilizzati, però sarà molto determinante vedere come i membri del board, i membri della Commissione Operativa della Federal Reserve, i toni del comunicato, poi per capire quali saranno le prossime mosse sulle rialzo dei tassi. Quindi molto probabilmente posticipato, molto probabilmente se non nell'estate di quest'anno, nell'autunno. Ma questo porterebbe quindi un allentamento della forza del dollaro. Senti, la Banca Nazionale Svizzera, abbiamo detto, continua a operare dopo quello che è successo comunque sul mercato delle valute. Secondo te, da ora in avanti, che ruolo giocherà questa banca? Sì, per quanto riguarda la Banca Centrale Svizzera, dopo la decisione di togliere il floor sull'Eurofranco Svizzera 1,20 e ha continuato a intervenire sul mercato, anche perché l'apprezzamento del franco era stato notevolissimo, questo aveva portato sicuramente degli squilibri nell'economia svizzera, che come sappiamo è forte e molto legata anche alle esportazioni nei confronti dell'Europa e quindi il cambio Eurofranco Svizzera era sceso al di sotto di 1 e aveva portato sicuramente un forte impatto negativo proprio per le imprese legate alle esportazioni, sta continuando a intervenire, al momento crediamo che comunque il cambio possa stabilizzarsi intorno ad Area 1, come detto c'è il grosso Euro dopo la decisione del quantitative easing di Mario Draghi che aveva portato chiaramente un forte depreciamento per quanto riguarda la moneta unica, adesso sembra che molti operatori che avevano posizioni short sull'Euro si stanno un po' riposizionando. La situazione Grecia, come abbiamo visto, ha portato alla formazione del nuovo governo, anche della nomina di un ministro delle finanze molto forte oppositore delle misure di austerità, però anche qui la situazione sembra che sia abbastanza chiara con la Grecia che cercherà di trovare una rinnegoziazione del debito nei confronti della troica. Quindi per quanto riguarda la Banca Centrale Svizzera molto probabilmente si stabilizzerà la situazione e vedremo comunque un cambio che non dovrebbe evidenziare forte volatilità almeno per quanto riguarda il breve periodo. Spostiamoci in Gran Bretagna, non si parlava più da tempo di rialzo dei tassi di interesse, ma un membro del comitato centrale della Banco di England, Christine Forbes, ha dichiarato che il rialzo dei tassi potrebbe arrivare prima di quanto ci si aspetti in Gran Bretagna. Cosa ci possiamo aspettare dall'economia britannica? Che comunque, anche se forse negli ultimi dati macroeconomici ha mostrato qualche segnale di reazione rispetto a quanto avveniva nella seconda metà dello scorso anno, però è attesa dalle elezioni. Sì, ci sono diversi fattori che ci lasciano credere che la Bank of England non interverrà così presto sui tassi di interesse. Innanzitutto noi crediamo, noi riteniamo che possa comunque attendere la Federal Reserve prima di agire e quindi anticipare anche i movimenti della Federal Reserve sarebbe a quanto strano. Ci sono le elezioni a maggio, le elezioni a maggio che sono molto importanti, soprattutto visto anche il successo dei partiti euroscettici in Grecia, in Gran Bretagna c'è questa volontà di uscire dall'Unione Europea, ci potrebbe essere quindi anche il successo del partito UKIP, quindi questo partito che è contrario proprio alle politiche dell'Unione Europea. Il rialzo dei tassi, l'economia inglese sì è vero che ha evidenziato dei segnali migliori rispetto all'economia di Eurolandia, però ha anche segnato qualche recente rallentamento, ci c'è anche tutto il discorso per quanto riguarda l'inflazione che comunque risente anche la Gran Bretagna per quanto riguarda il forte calo dei prezzi energetici. Nonostante qualche dichiarazione di qualche membro del Consiglio direttivo, del Monetary Council, crediamo che comunque il rialzo dei tassi per quanto riguarda la Gran Bretagna possa essere rimandato e nonostante queste dichiarazioni che sono più dichiarazioni per tenere comunque sempre la sterlina non troppo a deprezzarsi troppo sui mercati. Noi crediamo comunque che il rialzo avverrà comunque dopo quello della Federale Reserve, quindi anche qui ci stiamo parlando di autunno 2015, non anche un inverno 2015. Chiediamo con un rapido giro sulle numerose banche centrali che si riuniranno nei prossimi sette giorni, alcune sono importanti, altre molto meno, da quali ti aspetti la possibilità che arrivi qualche sorpresa? Io voglio pensare per esempio alla Banco Australia. Sì, ci sono tante banche che si riuniscono in questi giorni, abbiamo detto la Federal Reserve che dovrebbe lasciare tutto invariato, molto probabilmente quindi il rialzo è solamente posticipato, c'è la Bank of Australia e anche la Bank of New Zealand che si riuniscono in questi giorni, si dovrebbe lasciare invariato. Io starei attento, ci potrebbe essere una riunione importante per quanto riguarda la banca centrale russa, perché sappiamo come abbia alzato i tassi in maniera molto notevole, ma è perché la situazione in Russia è abbastanza complicata visto la decisione di Standard & Poor's di tagliare il rating sul debito russo, questo ha portato un ulteriore crollo del rublo russo, sappiamo come l'economia sia soffrendo della discesa dei prezzi petroliferi, quindi che ci potrebbe essere un intervento della Banca centrale ancora sui tassi, ma forse anche sulle restrizioni, sui movimenti dei capitali, perché c'è un fortissimo deflusso di capitali dalla Russia verso paesi esteri, quindi facciamo attenzione a questa banca centrale, ci sono anche le altre banche centrali che intervengono in questi giorni per quanto riguarda quelle legate alla discesa dei prezzi petroliferi, come il Messia, anche qui il peso messicano si è deprezzato tantissimo rispetto al dollaro, ci potrebbe anche essere qui un intervento sui tassi proprio per frenare questa caduta della valuta nei confronti del biglietto verde. Grazie mille Filippo, allora ti rimando alle prossime puntate, grazie delle informazioni. Grazie mille a voi. Vediamo dunque la tabella macroeconomica con i principali appuntamenti dei prossimi sette giorni, abbiamo già detto della Federal Reserve, si riuniranno anche le banche centrali di Sudafrica, Nuova Zelanda, Australia, Messico, Colombia, Bulgaria e India e la banca centrale russa si riunirà venerdì. Ricordiamo poi i dati macroeconomici principali, l'inflazione in Eurozona con attese rispettivamente a meno 0,1% e meno 0,5% su base tendenziale e il prodotto interno lordo americano che nell'ultimo trimestre del 2014 dovrebbe essere salito del 3,3% dopo il sorprendente più 5% segnato nel trimestre precedente. Passiamo ora a collegarci con i nostri trader, oggi sono con noi Arduino Schenato e Marco Bo, benvenuti. Buongiorno a tutti. Arduino, temi sul mercato ce n'è tanti, tu quali hai scelto e quali hai seguito nell'ultimo periodo? Sì, allora, uno dei trade che ho fatto nell'ultimo periodo molto interessante è stato il long su dollaro Canada, USDCAD e di contro aver shortato il petrolio VTI, il petrolio quotato in dollari. Quindi abbiamo praticamente, io e tutti i miei follower abbiamo già dai primi di gennaio comprato svariate volte il dollaro americano sul dollaro canadese che aveva formato molti segnali di trading, tre in tutto, insomma quindi nel giro di pochissimo, 20 giorni, ha fatto tre bei segnali sul grafico giornaliero che hanno permesso di fare dei buoni profitti e di contro avevamo il petrolio che continuava a scendere. Ha dato un segnale pochi giorni fa, tra l'altro che potrebbe essere ancora attivo senza problemi, con la vendita del petrolio, già i prezzi attuali e uno stop di protezione del capitale in area 52,20, quindi poco sopra 52. Quindi io sono ancora shortista per quanto riguarda il petrolio e su dollaro contro il dollaro Canada, anche qui sono abbastanza long, anche se adesso c'è stata una forte corsa, quindi attenderei un piccolo consolidamento dei prezzi prima di riprendere magari l'attività di trading long su questa coppia di valute. Passando invece alle materie prime, i metalli, una cosa interessante, così anche per chi ci sta seguendo, è il possibile segnale di trading che si è venuto a creare sia sull'argento che sull'oro proprio nella giornata di ieri. Quindi io ho veramente nella piattaforma due ordini pendenti che scatteranno solo al superamento dei massimi di ieri, sia sull'argento sia sul petrolio. Quindi se vogliamo andare nello specifico, interessante come l'argento abbia nell'ultima settimana spinto sopra l'area di resistenza che erano i 17,50 per poi fare pullback proprio su quest'area. Ieri ci ha dato un bel segnale di trading tipico della mia strategia che mi dice di andare in acquisto solo se il prezzo andrà a sfondare l'area 18,25 con uno stop protettivo a 17,60-17,55. Mentre per quanto riguarda l'oro abbiamo un segnale molto simile visto che i due sono cugini, un po' meno forte però molto interessante che mi dice di acquistare il metallo a 1,299-1,3 con stop a 1,270. Quindi anche uno stop non troppo esteso in termini di punti con obiettivo primario l'area dei 1,340 quindi poco sotto i 1,350. Grazie mille Arduino. Tu invece Marco Bo hai seguito che cambi? Cosa hai seguito? Anch'io il dollaro canadese e soprattutto ho cercato di cavalcare l'onda su Canada Yen. Da inizio gennaio ho iniziato ad accumulare un posizionamento short sul cross da area 101. Si vede bene sul grafico giornaliero che una volta rotta la soglia anche psicologica di area 100, il cross ha aumentato la propria velocità di discesa raggiungendo fino a 94,30. Sicuramente ha aiutato questa conformazione ribassista il prezzo del petrolio e la revisione delle stime da parte della Bank of Canada e poi il boom di mercoledì scorso con il taglio di un quarto di punto dei tassi da parte della Bank of Canada ha fatto il resto. Io ritengo che ci sia ancora spazio di discesa, continuerò nell'operatività a ribasso anche da questi livelli a 94,70 con dei target in area 89,50,90 e uno stop sopra area 96. Perfetto, grazie mille Marco. Passiamo ora alla parte più operativa della trasmissione, e vediamo la sfida. Domande con tempo di risposta da 45 secondi sia per Marco che per Arduino. Cominciamo con Arduino, parliamo di sterlina dollaro. Dopo una breve immersione sotto 1,50 si è tornati sopra il livello. Qual è la tua view su questo cambio? La view rimane short, aspetterei un segnale di trading short in area 1,52,55 che se dovesse formarsi avrebbe uno stop di circa una figura, 100 pips e obiettivo 1,48,70. Fantastico Arduino. Marco? Bene, io mi trovo dall'altra parte del mercato, ho aperto una posizione longa 1,52,10 ieri, con uno stop in area 1,50,60 e dei target in area 1,53,80. Rapidissimi oggi e molto efficaci, passiamo alla domanda successiva, prendiamo in considerazione il dollaro australiano e il dollaro americano, comincia stavolta Marco, il cross ha fatto un altro passo indietro e è sceso sotto 0,80. Marco? Ok, rimane secondo me sell on rallies, il cambio australia dollaro contro dollaro americano a causa dello slowdown dell'economia cinese. Andrei short in area 80,50, tenendo la posizione fino ad area 0,82, 0,82,50 come stop, su chiusura daily però, è un target in area 0,77. Benissimo, la replica di Arduino adesso. Allora, anche qui io aspetto un segnale short in area 0,81, quindi sul numero tondo, anche qui ovviamente lo stop intorno ai 100 pips, a seconda un po' della figura che poi mi mostrerà tecnica, però circa i 100 pips sono corretti per questa coppia di valute e l'obiettivo diventa poco sotto il minimo precedente, area 0,77,30. 0,77,30 l'obiettivo. Ultima coppia che prendiamo in considerazione oggi è l'euro-dollaro, vogliamo vedere dove andranno queste due valute nel breve termine. Cominciamo con Arduino. Allora, sicuramente la mia operatività, anche se potrebbe ovviamente questa coppia rialzare nel breve, è cercare di vendere. Quindi la mia operatività sarà aspettare un movimento rialzista fino in area 1,15,50 e attendere un segnale short tra 1,15,50 e 1,17. Se questo avverrà, anche qui si venderà la coppia di valute con primo obiettivo il minimo di qualche giorno fa, quindi l'area 1,11,50. Seguendo con un trailing stop, l'obiettivo successivo diventa l'area 1,09,10. 1,09,10, obiettivo per l'euro-dollaro secondo Arduino. Secondo Marco Boi, invece? Diciamo che ha assorbita la sbornia e arriva assista con il minimo a 1,11. Credo sia il momento di sfruttare la correzione. Io andrei long tra 1,13,20 e 1,13,50, con uno stop in area 1,11,80 e un target a 1,16, 1,16,50. Lì girerei la posizione poi short in quanto è una bellissima area di swing e diciamo che potrebbe bastare come ritracciamento sul trend di lungo che rimane comunque ribassista. Va bene, grazie. Siete stati molto concisi e molto efficaci. Sono queste le indicazioni che ci piacciono, molto operative. Ci vediamo prossimamente. Grazie Arduino, grazie Marco. Grazie, buona giornata a tutti, buon trading. Ciao a tutti. Torniamo in studio e dedichiamo quest'ultima parte della trasmissione ad approfondire con Alessandro Capuano un tema che ha sconvolto i mercati. La decisione della Swiss National Bank due settimane fa di rinunciare al cambio fisso, alla difesa della soglia di 1,20 nel cambio euro franco svizzero. Allora, ad Alessandro Capuano che ha vissuto questo fatto dal timone di IG Italia, vogliamo chiedere cos'è accaduto al mercato. Sostanzialmente è accaduto un qualcosa di... l'abbiamo già letto sui giornali, abbiamo visto... non sto a ricostruire il perché e il quando è successo, però sostanzialmente la banca centrale svizzera, con una comunicazione maldestra, ha annunciato a mercati aperti di voler eliminare il floor. Questo ha provocato sicuramente una forte incertezza, ma soprattutto la notizia era totalmente inaspettata, o quantomeno era contraria alle dichiarazioni che erano state fatte appena il giorno prima. In questa fase di indecisione, tutti i maggiori liquidi di provider, perché bisogna ricordare agli spettatori che il mercato del Forex è un mercato fatto da market maker, dove i principali liquidi di provider sono sostanzialmente 10-15 banche d'affari, molto grande, che quotano in continuazione i prezzi, e poi a catena questi prezzi vengono utilizzati da tanti altri broker e vanno fino a quello che è l'utente finale. Le 15 maggiori banche d'affari, in un attimo, hanno deciso di fare il cosiddetto pull day bid, cioè hanno revocato tutte le quotazioni. Quindi il mercato si è sostanzialmente, sul franco svizzero, non solo euro franco, ma anche dollaro conto franco svizzero, si è bloccato per un periodo quasi di 20 minuti, il che ha provocato un grosso crollo e un rilienamento dei prezzi al 30% sotto. In questa fase non è stato possibile eseguire tutti gli ordini e tutti gli stop loss, anche perché il mercato aveva tutti gli stop loss quasi di tutti gli utenti allo stesso livello. Non c'era liquidità e si è potuto eseguire gli stop solo quando il mercato ha riaperto, sostanzialmente 20 minuti dopo. Ci sono anche altri strumenti che possono essere utilizzati. Io voglio chiederti, se un cliente avesse operato utilizzando gli ECN, avrebbe... No, non sarebbe cambiato nulla. Questo è un falso mito. Gli ECN spesso vengono visti come un... Nel solito spieghiamo che cosa sono. Gli ECN sono dei circuiti di negoziazione dove il trader compra e vende i cross, compra e vende la valuta non andando a operare direttamente con un market maker, ma andando a operare con una selezione di market maker e sceglie il prezzo tra i migliori market maker. Quindi è un book come quello che c'è sul mercato azionario, dove posso vedere domande e offerta che sono fatte dai market maker e posso applicare non direttamente sul singolo market maker, ma su una selezione di market maker. C'è questo falso mito che questo sia un mercato più trasparente, più liquido. In realtà, se andiamo a vedere quello che è successo sull'euro contro il franco svizzero, non è stato così. Anzi, i liquidi di provider, che sono proprio queste grosse istituzioni, che quotano sugli ECN, anche AIG ha un ECN suo proprietario e noi quotiamo direttamente noi e quotano anche questi liquidi di provider, la prima cosa che hanno fatto hanno revocato le offerte proprio degli ECN. Quindi, paradossalmente, i primi clienti che non hanno trovato più controparte sono stati proprio quelli che operavano sugli ECN. Questo perché? Perché in una situazione di poca liquidità e di restrizione, noi abbiamo dei limiti, tutti i market maker hanno dei liquidi e hanno preferito dare liquidità ai propri clienti interni piuttosto che andare a quotare sull'ECN. Quindi, anche, purtroppo, chi avesse avuto operazioni in essere e voleva uscire dalla posizione sull'ECN avrebbe preso prezzi uguali, se non peggiori, a quelli che hanno preso i clienti che operano con un singolo market maker. Ci sono state diverse comunicazioni da parte di diversi broker e non tutti hanno dichiarato perdite. È possibile, secondo te, che qualche intermediario sia uscito indenne da questa tempesta o abbia addirittura guadagnato? Allora, su questo va fatta una differenziazione. Innanzitutto ci sono due tipi di intermediari sul mercato. Ci sono tutti gli intermediari che sono quotati, come ad esempio noi, che hanno comunicato, noi penso che siamo stati i primi, in due ore abbiamo comunicato immediatamente quelli che sono stati gli effetti delle operazioni sul franco svizzero. E abbiamo un obbligo verso il mercato, un obbligo verso i regolatori, quindi lo abbiamo fatto in maniera abbastanza veloce e trasparente. C'è poi tutta una serie di intermediari più piccoli che non sono quotati e non hanno questo tipo di obbligo. Risponderti, a mio avviso è molto improbabile che un intermediario sia riuscito a guadagnare o quantomeno l'unico intermediario che è riuscito a guadagnare sono quegli intermediari che avevano una posizione short sull'euro franco svizzero. Ora, siccome da nostri dati il 91% dei clienti all'epoca dei fatti era long, io dubito vivamente che ci possano essere intermediari che erano short. Gli intermediari che erano short erano sostanzialmente quelli che non coprono le posizioni dei clienti, ossia i nostri clienti erano long, AEG aveva coperto quelle posizioni, quindi a sua volta AEG era long per compensare l'esposizione dei clienti. Se noi non avessimo coperto alcuna esposizione probabilmente saremmo stati short e avremmo guadagnato da quest'operatività. Quindi gli unici che hanno dichiarato dei guadagni o che ne sono usciti totalmente indenne sono inevitabilmente quelli che non coprono le posizioni. E infatti se vai a vedere la classifica delle perdite gli intermediari più grossi che sono quelli che hanno dei flussi maggiori e quindi non possono prendersi in pancia i rischi e grosse esposizioni dei clienti sono quelli che hanno dichiarato e hanno subito più perdite. Un paio di domande ancora. Allora la prima, su questo cambio euro-franco-svizzero prima abbiamo sentito si potrebbe stabilizzare in realtà però dopo quello che è successo cosa ne pensi? Ma quello che abbiamo visto noi è innanzitutto una diminuzione dei flussi per due motivi. Uno, sicuramente il principale è una totale assenza di fiducia in quelle che possono essere le comunicazioni e l'operato da parte della Swiss National Bank. Noi abbiamo la sensazione che la banca centrale svizzera continuerà a intervenire sul mercato sicuramente non stabilirà un floor perché questo ha dimostrato essere insostenibile ma potrebbe continuare a intervenire sul mercato con operazioni spot. La realtà dei fatti è che la liquidità sull'euro-franco-svizzero e i volumi si sono abbassati tantissimo da un lato per la perdita di fiducia e poi c'è un motivo tecnico dopo il problema sul franco-svizzero molti operatori hanno aggiornato i margini. Noi non abbiamo aggiornato i nostri margini per il semplice fatto che le nostre contoparti che utilizziamo per coprirci sul mercato a noi non hanno richiesto un adeguamento di margini ma quello che sta succedendo sul mercato istituzionale è che i grossi liquidity provider in linea di massima stanno chiedendo margini più elevati a controparti più piccole perché percepiscono un rischio maggiore e di conseguenza questo innalzamento dei margini si ribalta poi sul cliente finale quindi questo ha provocato una diminuzione dei volumi sul franco-svizzero. In linea di massima se dovessimo scegliere oggi di operare sul forex io direi che il franco-svizzero non è la prima valuta che mi viene in mente sulla quale operare. Bene, ultimissima domanda parlando di broker se dovessi dare dei consigli a chi deve scegliere un broker cosa gli diresti di guardare? Non vale ovviamente dire scegliere TG. No, certo però bisogna essere concreti e un evento come questo è fondamentale. La trasparenza nelle comunicazioni è un qualcosa che paga e la solidità finanziaria. Noi non abbiamo nessun problema l'abbiamo dichiarato subito abbiamo subito delle perdite che in parte sono dovute all'attività di trading perché avevamo degli stop loss garantiti che abbiamo onorato e non siamo riusciti a coprirci su quei livelli di prezzo rispetto a quelli che avevano stabilito i clienti. la solidità finanziaria paga sicuramente nel lungo termine e soprattutto andare a osservare l'operato in generale che è il broker il fatto di essere quotati o non quotati può essere irrilevante per un cliente finale ma ti dà dei requisiti di trasparenza che sono obbligatori per il mercato che ti fa sì che la controparte con la quale stai operando ha degli obblighi particolari che dovrà andare a rispettare quando ci sono situazioni di questo tipo è inevitabile che i benefici ne possano venire fuori. Benissimo ringraziamo allora Alessandro Capuano e dove il G Italia di essere stato qui con noi Grazie a voi Ci avviamo alla conclusione vi ricordo che l'appuntamento è per mercoledì prossimo alle ore 11 vi ricordo gli indirizzi a cui potete scrivere le vostre domande via email a forextime at finanzaonline.com via twitter a at underscore forextime Buon forex a tutti!